Oggi ho preparato per voi una buonissima crostata con frolla semi integrale, ovvero una frolla che si realizza con metà farina integrale e metà farina 00. Ho arricchito poi la mia crostata farcendola con crema pasticcera, marmellata di fragole e granella di mandorle. Scopriamo insieme come ho fatto a realizzare gli ingredienti che ho usato e il procedimento con il Messier Chusing Connect ma anche con il Messier Chusing Plus. Gli ingredienti per preparare la nostra crostata semi integrale sono 225 grammi di farina 00, 225 grammi di farina integrale, 150 grammi di zucchero, una bustina di lievito, 150 grammi di olio di semi, una bustina di vanillina, tre uova e un pizzico di sale. Per la farcitura della crostata utilizzeremo invece circa 700 grammi di crema pasticcera realizzata con la ricetta che trovate sotto nella description, 50 grammi di granella di mandorle e della confettura di albicocca. Procediamo prima alla preparazione della nostra frolla semi integrale che è alla vera picca di questa ricetta. Allora andiamo a mettere tutti gli ingredienti insieme all'interno del boccale. Quindi le farine, mettiamo prima le polveri, farina integrale, farina bianca 00, zucchero, poi mettiamo la vanillina, il lievito e il pizzico di sale. E poi metteremo invece la parte liquida che è costituita dall'olio di semi e dall'uova. Dopodiché impostiamo la funzione automatica impastare per un tempo di due minuti e andiamo via. L'impasto è concluso ma risulterà ancora poco omogeneo. Vi faccio vedere come si presenta. Guardate, si presenta in questa maniera. Adesso io lo vado a mettere su un piano da lavoro e lo vado a compattare con le mani. Ecco il nostro impasto. Abbiamo una compattata con le mani e poi come una classica frolla fatta con farina normale metteremo a riposare in frigo per circa mezz'ora coperta con pellicola trasparente. Ci vediamo dopo. Vi faccio vedere la stesura in teglia e la farcitura con la crema e la granella di mandorle. A dopo. Abbiamo tirato la nostra frolla fuori dal frigo. Adesso la mettiamo su un piano infarinato e procediamo alla stesura. Prima togliamo la parte che ci servirà per le strisce di copertura. Nel frattempo abbiamo imburrato e infarinato una teglia di diametro variabile tra i 22 e 24. Quindi andiamo a stendere la parte che ci servirà da base e possiamo aiutarci anche con un mattarello in maniera da stenderla in più sottile. L'ho messa nella teglia e adesso con la parte che è avanzata vado a fare un piccolo bordo. quindi stendo di nuovo taglio delle strisce e realizzo il bordo. A bordo fatto vado a bucherellare la base della nostra crostata e vado a mettere uno strato di marmellata che non sia né troppo spesso né troppo sottile. Adesso sullo strato di marmellata vado a mettere la granella di mandorle. Potete usare un'alternativa anche granella di nocciole o di noci. e sopra la granella di mandorle vado a pensare la mia crema pasticcera. La livello bene fino al bordo. Una volta livellata la crema vado a fare le strisce di copertura e nel frattempo pregiscaldo il forno a 180 gradi in modalità statica. La nostra crostata è terminata adesso la vado a infornare a 180 gradi come vi ho detto in modalità statica la riuscirò a cuocere per circa 30 minuti. Ci vediamo dopo vi faccio vedere il risultato finale. Ecco sfornata la nostra crostata semi integrale. Ho già spolverata di zucchero a velo ed è pronta per essere servita. Spero che la ricetta vi sia piaciuta. Se vi è piaciuta vi invito a mettere un like a questo video. Vi invito ad iscrivervi al nostro gruppo facebook Messier Cuisine Connect plus Italia dove trovate queste ed altre ricette e tantissimi consigli. Vi invito a seguirmi sul sito www.messiericette.it e ovviamente ad iscrivervi a questo canale youtube in cucina con Messier. E buona crostata per tutti! Grazie a tutti!